Shopping senza problemi di sosta è quello che tutti desiderano ed adesso grazie all'iniziativa targata Confesercenti potrebbe diventare realtà. Si tratta di una promozione volta a facilitare l'accesso al centro storico a chi lo sceglie per i propri acquisti. Gli esercizi infatti chi aderiranno all'iniziativa omaggeranno la loro clientela con un ticket per pagare il parcheggio, sostenendo così il commercio tradizionale nel cuore della città. Questo è un problema molto avvertito tra le imprese, dei centri storici o comunque delle aree urbanizzate dove parcheggiare è un problema e oltre al problema di trovare posto è anche un costo per coloro che si recono a fare acquisti. Per cui sulle citate degli operatori abbiamo pensato a questa iniziativa che ha trovato la collaborazione sia delle due aziende che gestiscono i parcheggi ad Arezzo, quindi Atam e Arezzo Parcheggi oltre che il contributo di Camera di Commercio e consente per gli operatori che aderiscono all'iniziativa regalano buoni parcheggio per coloro che fanno acquisti presso di loro, soprattutto in vista ora del prossimo 2 luglio che è la giornata di inizio dei saldi di fine stagione. I parcheggi interessati sono i parcheggi che hanno le sbarre, quindi sono la Cadorna, l'Eden e Piazza del Popolo per Arezzo Parcheggi, sia quello esterno sia quello interno. Gli operatori che espongono la vetrofania che potete vedere hanno un unico obbligo, quello di superare un acquisto di 10 euro, di fornire un buono parcheggio da un'ora. In questa prima fase, grazie a due sponsor, possiamo offrire loro un pacchetto di buoni gratuitamente per favorire e testare l'iniziativa, che peraltro comunque ci è stata sollecitata, quindi incontra sicuramente l'interesse e poi ognuno si regolerà.